Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Io sono Sofì e io sono Papi e oggi che facciamo di bello Sofì? Oggi apriamo le Star Chest del nuovo aggiornamento di Squad Buster! E che aggiornamento raga! C'è tantissimissima roba, qualcosa anche da rivedere, eh! C'è l'evento Transformers! Ma la cosa che vogliamo fare adesso, Sofì, è la reaction live sul tuo account dei 10 Star Chest gratuiti di Squad Buster! Nel frattempo voglio dirvi che ci sono delle probabilità di prendere un Ultra praticamente garantite! Perché un Ultra lo potete prendere uno su dieci e quindi aprendo dieci casse automaticamente ci sarà come minimo un Ultra! Ma c'è anche la probabilità di prendere un nuovo Supremo, sarebbe quello 5 Stelle! Però raga, quella la probabilità è uno su mille, lo 0,1% per cui, Sofia, se dovessi prenderlo, cosa fai? Lasciuta la verticale per più tempo possibile, massimo 3 secondi! Io farei 70 capriole! E comunque raga, faremo anche la reaction sul mio account, però lo vedremo in un prossimo video, anzi mettete già like! Andiamo subito ad aprire le Star Chest! Siamo amici, sono super emozionata! Prima Star Chest! Allora Sofia, ti spiego un po' come funziona! Tu clicchi, fai tap tap e ci sono dei cambiamenti e la chiave, se ne escono più di due sicuramente sarà un Ultra! Vediamo, ti faccio vedere, vai! Tap, ok, ok, normale, vai! Vai, ancora no! Uno! Se fai... È super, è super! Quando è due è super, infatti vedi sono tre stelle! Vabbè, ci sta, vediamo chi prendi! Super! Beh dai, è comunque un raro! È importante essere sequenziali perché magari abbiamo più probabilità! Vai, vai! Un'evoluzione! Due cambiamenti! Ancora super! Chi vuoi che sia, Sofì? Basta che non esce... Non lo so, con gli egzi! Eh, un'evoluzione! Eh, un'evoluzione! Beh, dai, scendi! Però, raga, dovete capire che qua adesso praticamente gli Ultra diventeranno i vecchi Super perché sarà praticamente facile arrivare agli Ultra! Vai, vai! Oh, oh! Uno ancora evoluzione! Allora, vediamo cos'è! Pendi! No, vabbè, è super buono! Bella, dai! Il quarto? Dai, facciamo veloce, Sofì, dai, dai! Uno! Due! Vediamo quante stelle! Non lo so se è fatto, credo di no! Tre stelle ancora! Uscirà, Sofì, devi uscire per forza! Miner! Dai, dai, Miner è buono! Dai, andiamo avanti con il quinto! Io non ce l'avevo, Super Miner! È vero, non ce l'hai! Io, invece, l'ho evoluto da poco! Quindi, la fuorilegge potrebbe uscirmi anche, giusto? È certo, è certo, sì! Uno? Uno? Due? Due, no! Due? No, uno! Due, due, tre stelle! No, no, no! Sofìa, dai, potresti anche... Parvo! Fantastico! Io non ce l'avevo la Super Bandit! Sta andando bene! Raga, con la fortuna che ciò prenderò tutte chicken e galline! Andiamo! Tap, 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 tap! Dai, uno! No, tap! Tap, tap, tap! Tap, tap, tap! Tap, tap, tap! Ma quello che dico io, potresti anche essere fortunata e prenderne due di quelli, almeno Ultra! Hai preso Leon! Vabbè, dai, comunque... No, non ci posso credere! Tra l'altro, comunque mi sa che ce l'avevi, no? Andiamo avanti, andiamo avanti! Sì, ma c'avevo un sugar! Addirittura! Eh, ma noi vogliamo vedere l'Ultra, l'Ultra! Uno? Se ti esce il Re Barbaro... Ancora due! Ma io dico, io dico, ok me ne garantisci uno, ma puoi darne anche due! Non succede niente! Oh, raga! Non è che c'è l'account bugato! No, ti prego! Uno? Due? Un peccato! Che succede? Hai due possibilità! Deve uscire per forza, Sufi! Non penso che sarà l'ultimo, dai! Max! Ma dai! No, vabbè, amici! Ma ti c'hai già due Ultra! Se dovesse uscirti un Ultra di Maxime, c'è proprio l'Ultra che c'hai! Ok, amici, io questa mi sento che è quella giusta! Vediamo! Deve essere per forza questa o l'ultima? Un'animazione? Adesso, fra tre Tap Tap esce la scintilla! Vediamo! Due! È lei? È lei? Non lo so! Non è lei! Vediamo! Quante? Oh, raga! Cioè, non mi dire che hai l'account buggato! Perché, Sofia, è l'ultimo tentativo! È per forza Ultra! Quindi, adesso vediamo come sarà l'animazione dell'Ultra! Ti immaginesci un Super? No, noi facciamo richiesta la Supercell, veramente, di sarcimento danni! Ma sei sicura che è veramente un Ultra? Eh, beh, per forza! Almeno deve essere un Ultra! Vediamo! Uno! Eccolo! Due! Due di Sera! Oh, Sufi! Se fa un altro... È cinque stelle! No, no, è quattro! È quattro! Ah, peccato! Vediamo che quattro stelle è! Aspetta, chiudi gli occhi! Boom! No! È il primo! È il primo quattro stelle! Che non avevi! Comunque, non è andata male, Sofia! Apri la cassa gratuita, vediamo che c'è! Vabbè, diciamo che adesso... Però come è che potremmo uscire? Eh, beh, infatti, fare i personaggi non sarà tanto difficile adesso! Che poi adesso se li faccio mi la... Esatto! Vogliamo provare? Vogliamo provare? Guarda, almeno la prima cassa! Vediamo che succede! Vi facciamo vedere che con 20... Potremmo già ritirare! Sì, ma la prima è facile! La seconda è con 50! La terza con 100! Poi si aumenta a 500! Sarà difficile, raga! Eh, ma mou è super, raga! Super, super! Vabbè, ma è bello, cioè! Sofia, ti dico una cosa! La vogliamo rischiare se hai 5 evoluzioni! Oh! Non ce l'avevo super! Se hai 5 evoluzioni, Sofì, adesso arrivi a 50 e apriamo l'ultima del video! Dai, proviamo! Vediamo se ci sono evoluzioni, speriamo! Dai, ce l'avrai 5 personaggi? Non ho due, peccato! No, non ce la fai! Eh, no, ma perché? Peccato, per pochissimo! Non li raggiungi neanche con i livelli, no? Vedete? 6 a 20 di 50, quindi questo baule ancora non lo puoi aprire! Puoi provare ad aprire il baule gratuito che ci dà sicuramente il Transformer in versione B! Vediamo! È sicuramente lui epico, è garantito! Ovviamente già a metà della strada potete incassare anche il Optimus Prime a livello Super! Bellissimo, amici! Noi ci vediamo in un prossimo video! Con la reaction di Papi insieme a Sofì! E ciao! Noi ci vediamo!